Nell'ambito del progetto Ocuros, anche il Lido di Venezia è stato coinvolto nella giornata di giovedì da tre interventi che hanno avuto il merito di accendere un faro sulla situazione del degrado in Curia all'interno dell'ex ospedale armare e poi tra le colonie vuote e abbandonate degli erberoni, colonia Padova ed ex IMPDAP, una situazione che permane così da decenni. Il servizio è stato effettuato dal nucleo di sicurezza territoriale e dal personale della polizia locale dell'Ido e Pereltina che hanno ricevuto alcune segnalazioni. L'operazione ha l'obiettivo di prevenire il fenomeno dell'abusismo accertando l'eventuale presenza di persone non autorizzate all'interno degli edifici ma anche di fotografare eventuali circostanze di degrado e di incuria. A Lido è stata accertata la presenza di alcuni giacigli, indumenti e rifiuti di vario genere tra le stanze vuote ma non sono state ancora identificate persone.